Il caso della baronessa di Carini esplose in Sicilia nella seconda metà del 1500. Quella del secolo XVI è una Sicilia caratterizzata dallo strapotere e dall'anarchia dei baroni feudatari, dalla povertà, dalle scarsi vie di comunicazioni, da un'economia agricola precaria che non era bastevole per tutti, dallo sfruttamento che si faceva nelle campagne e non solo nelle campagne, dall'oppressione che il dominio spagnolo provocava nei confronti della popolazione anche con un'esosa tassazione. Il re di Spagna era lontano, era il re di Sicilia, ma era rappresentato da un suo vicerre. Pertanto la storia che oggi racconteremo tiene conto di questo contesto ed è una storia di amore e di morte che si consumò esattamente il 4 dicembre del 1563 nel castello di Carini, che come sapete Carini è un paesino, un paese a 20 chilometri da Palermo. La vicenda si svolse tutta all'interno del castello normanno di Carini, che originariamente era proprietario della famiglia Bonello, poi nei secoli successivi passò di mano ad altre famiglie nobiliari, fino ad arrivare a fine XVI secolo, proprietà della famiglia, che era pure spagnola, originaria della Catalogna, la famiglia La Grua Talamanca. I personaggi della tragedia che si verificò dentro il castello sono Don Cesare Lanza, barone di Trabbia e conte di Mussomeli. Più avanti faremo un profilo più preciso del personaggio. L'altro personaggio è ovviamente la vittima, la sua figlia primogenita Laura Lanza, il genero di Don Cesare, il nobile Don Vincenzo La Grua, che era il barone di Carini e quindi il proprietario del castello, che fu dato in esposa a Laura Lanza. E infine il giovane Ludovico Vernagallo, l'amante di Laura, signore del feudo di Montelepre, che confenava, essendo Montelepre un paese vicino a Carini, confenava proprio con il feudo dei La Grua. I Vernagallo appunto sono imparentati con i La Grua. Questo fatto consente al giovane Ludovico di frequentare il castello di Carini e di innamorarsi della giovane Laura, che come raccontano poi non solo le croniche, doveva essere di una bellezza straordinaria, ma una donna infelice. Il suo matrimonio con La Grua, il barone di Carini, era, per dirle in parole povere, un matrimonio senza amore. Insomma, fu un matrimonio combinato a tavolino esclusivamente per interessi economici dai rispettivi genitori, sia di Laura, quindi Don Cesare, che di Don Vincenzo La Grua. In questo quadro la giovanissima baronessa Laura cede al suo corteggiatore Ludovico Vernagallo, dal quale avrà almeno quattro figli. In vita Laura ebbe sei figli, ma sicuramente quattro erano del Vernagallo, perché la relazione fra i due durerà per lungo tempo e quasi tutti ne erano a conoscenza. È un falso storico dire che, eppure la notizia è stata messa in circolazione, che Don Cesare Lanza e il marito non sapessero nulla. Lo sapevano tutti ed è per questo che tutta la narrazione in alcuni punti è carente ed è anche sospetta, per giustificare un delitto così atroce. La sera del 4 dicembre del 1563 i due amanti, con lo zampino evidentemente di una spia interna, vengono sorpresi nella camera da letto e uccisi senza pietà dal padre di Laura. Don Cesare Lanza si giustificò, ma questo lo sapremo dopo, dicendo che doveva lavare l'onore della famiglia. È andata davvero così? Il movente è stato soltanto quello di salvaguardare l'onore della famiglia, anzi delle famiglie Lanza e la grua? O c'è dell'altro? Perché il nobile Don Cesare Lanza si trasformò in brutale assassino? Proviamo a mettere un po' di ordine e avvertendo che nei secoli trascorsi ha prevalso sull'intera vicenda più una narrazione diciamo orale, talvolta assai fantasiosa e dunque priva di riscontri, che la realtà dei fatti proveniente dalle sia pure scarse fonti archivistiche. Sul caso della Baronessa di Carini sono molti i libri pubblicati, a partire dal 1870, quando la tipografia del giornale Sicile, che allora stampava pure dei libri, mise in vendita un volumetto di 112 pagine, che poi è stato ristampato, un volumetto che poi è stato ristampato da una piccola casa editrice, la Arnaldo Forni editore, quando uscì per la TV di Stato il famoso sceneggiato televisivo del regista Daniele Danza. Questo è il volumetto che raccoglie proprio la copia anastatica di quella pubblicazione risalente al 1870, un volumetto di 112 pagine, dicevo, intitolato La Baronessa di Carini, leggenda storica popolare del XVI secolo in poesia siciliana. Chi era l'autore? L'autore era un esperto già accreditato di tradizioni popolari, Salvatore Salamone Marino, un medico nativo del piccolo paese di Borgetto, vicino a Partinico, amico e collaboratore sodale di tante battaglie, del grande etnologo ed esperto di tradizioni popolari come il palermitano Giuseppe Pitré. Il libro ebbe un grande successo a Palermo, in Sicilia, nel resto del paese e anche in molte parti d'Europa. Il volume, come notarono gli esperti, si distingue per una intelligente ricuscitura di testi orali, caratterizzata da una grande forza narrativa, ma carente di fonti certi e pieno di sbarioni, che rasentano il falso e certamente non per colpa di Salvatore Marino. Salamone Marino si limitò ad assemblare racconti che via via ha raccolto dalla voce popolare e dunque le prime storie che vengono raccontate sono delle storie spesso del tutto inventate, anche se la sostanza e il delitto c'è, ma i personaggi alcune volte sono diversi, non quadrano gli avvenimenti, non quadrano il racconto nel suo complesso. Tuttavia erano queste le cose che venivano raccontate e quindi Salvatore Salamone Marino non ha fatto altro che assemblare tutti questi materiali, però a sua discolpa dobbiamo affermare che subito dopo il duplice delitto, ed ecco quindi perché la difficoltà di disporre di fonti di prima mano si fece di tutto per inquinare le prove e per occultare il fatto che coinvolgeva, non dobbiamo dimenticarlo, una potente famiglia, anzi delle potenti famiglie del tempo, quella di Don Cesare Lanza addirittura ancora più potente di quella dei Laugrua. Don Cesare Lanza era di un'ambizione sconfenata, un nobile di primo piano, abbiamo visto barone di Trabbia, conte di Mussomeli, un uomo potente e prepotente, violento e autoritario, vicinissimo addirittura al vicerre Ferrante Conzaia e molto conosciuto dall'imperatore Carlo V. Ricoprì persino la carica di vicario generale del regno e fu per lunghi anni pretore, cioè sindaco della città di Palermo. Lanza non poteva vantare né una fedina penale pulita né un passato di nobile probo e tranquillo. Da giovane fece assassinare niente meno che per una questione di confine un magistrato di termini merese. Per sfuggire al rigore, chiamiamolo così il rigore perché contro i nobili non c'era il rigore, perché i nobili la facevano sempre franca e la vicinanza col potere li metteva al riparo da qualsiasi intervento della giustizia. Anche quando li dovevano arrestare il trattamento loro era particolare, non le buttavano in civili carceri del tempo, o venivano esiliati in qualche castello o venivano portati in qualche isola, ma mai trattati allo stesso livello dei poveracci che invece subivano la mano pesante della giustizia senza colpo perire. Don Cesare per sfuggire proprio al rigore, tra virgolette, della legge scappò e si rifugiò a Bruxelles, proprio alla corte di Carlo V. La sua permanenza lì gli consentì di partecipare assieme all'imperatore alla guerra di Germania e alla spedizione di Algeri. Verrà perdonato e graziato, ritornerà quindi a Palermo e quando ritornerà a Palermo gli verranno restituiti onori e anche i beni che temporaneamente aveva avuto sequestrati. Data l'esuberanza del personaggio, i diaristi di fine Cinquecento annotarono la tragedia di Carini, ripeto, con estrema cautela e riservatezza. Evitarono insomma, quei cronisti di allora, di indicare esattamente il nome del carnefice e il nome delle vittime. Sicché i protagonisti del drammatico episodio e i particolari rimarranno per secoli sconosciuti e avvolti nella leggenda. I cantastori o i cosiddetti suonatori plebei di strada diffonderanno in quasi tutta la Sicilia una discutibile trama, monca e immaginaria, corredandola con rime improvvisate. Non c'è dubbio che il Salvatore Salomone Marino è costretto a cucinare la storia con questi ingredienti, con quello che passava diciamo nella vulgata popolare e nel giro di tre anni Sforna raccogliendoli circa 400 varianti del fatto. Ha sentito, cominciando dalla sua famiglia perché lui per la prima volta il racconto lo sentì dalla prima voce della madre, ma poi girando per i paesini della provincia di Palermo e non solo, è riuscito a capitare diverse fino a arrivare a 400 varianti del fatto. Quindi immaginate il bisticcio di parole, l'immaginazione popolare di che cosa è capace di fare. Ebbene lui diede ascolto a scapito anche della verità storica, ma ripeto, non gliene possiamo fare una colpa. Come racconta Leonardo Sciascia, siamo nel 1965, nel suo bellissimo libro dal titolo La corda pazza, il documento definitivo che a chiare lettere dicesse che Don Cesare Lanza aveva ammazzato la figlia Laura e il Bernagallo venne fuori per ecchi anni dopo la morte di Salvatore Salamone Marino. Nella corda pazza, dice Sciascia, la prova, questo documento l'ha trovato recentemente Adelaide, recentemente nel 1965, giusto? Stiamo parlando di qualcosa ormai parente di mezzo secolo. L'ha trovato, dice Sciascia, scrive Sciascia, recentemente Adelaide Baviera Albanese, direttrice dell'archivio storico, e lo pubblica, muovendo tutto un discorso che si può considerare definitivo per la verità storica del caso. Il centro grammatico del documento è nella istanza di Don Cesare Lanza che il decreto reale riporta per dichiararla accolta, è precisamente nel punto in cui Don Cesare racconta che essendo andato, e io lo dico con le parole proprio come sono state riportate nel documento cinquecentesco, a vedere la baronessa di Carini e sua figlia come era suo costume, trovò al baron dei Carini suo genero molto alterato perché aveva trovato in quel mismo istante nella sua camera, Lodovico Vernagallo, suo innamorato con la detta baronessa, onde detto esponente mosso da Iusto Sdegno in compagnia di Letto Barone, andarono e trovarono l'idetta baronessa e il suo amante serrati insieme e accussi subito in quello stanto e foro ampe due ambazzati. Né la storia inversa, né i documenti raccolti da Salvatore Marino erano finora riusciti a gettare luce su questo personaggio, cioè su Don Vincenzo Vernagallo e poi vedremo su Don Cesare, perché si era parlato nella prima versione raccontata dal Salvatore Marino, nessuno aveva parlato di Don Cesare Lanza e nessuno aveva parlato di Don Vincenzo Lagrua, si sono fatti altri nomi, c'erano altri riferimenti e allora appunto dice Sciascia, nella storia inversa e nei documenti raccolti da Salomone e Marino erano riusciti a gettare luce sui personaggi, che potevamo indovinare umanamente squallido e inetto questo Vincenzo, Lagrua, ma ora lo abbiamo quasi fisicamente presente grazie al documento trovato da Adelaide Albanese. Naturalmente non c'è da credere alla casualità, né ci vuole grande immaginazione dice Sciascia per vedere l'effettivo svolgimento dei fatti. Don Vincenzo avrà sospettato, saputo, la cresca della moglie, ne avrà parlato al suocero Don Cesare, probabilmente si sarà mostrato incredulo e in Lagrua si sarà dato a tessere l'agguato e a fornigliere la prova ed ecco che riesce a chiudere gli amanti in camera e manda a chiamare Don Cesare. Questi arriva seguito da una mano di armati, passionale e violento qual'era, con tanta più collera quanto poco aveva creduto al credimento della figlia, irrompe nella camera a vendicare e uccidere. Non da solo forse perché il Bernagallo avrebbe potuto difendersi ma ci riesce difficile a immaginare che Don Vincenzo al suo fianco è pronto a uccidere il suo rivale. Comunque per le leggi di allora era opportuno lasciare intendere che Don Cesare avesse ucciso la figlia e Don Vincenzo l'amante della moglie. O forse c'è stata, dice Sciascia, una accurata premeditazione da parte di entrambi, il genero già dapprima in accordo col suocero a stabilire le modalità dell'agguato e della vendetta. Ma questo nessun documento potrà mai dircelo e sono convinto che per le notizie di allora su questo punto Sciascia si sbagliò un poco perché ora vedremo qual'altra novità è venuta fuori molti decenni dopo nel 2010 per cui oggi ho ritenuto di fare questa chiacchierata. Comunque ancora una volta questo documento ci sveglia che ancora una volta il re accoglie la difesa del padre assassino e ordina di archiviare ancora una volta il procedimento contro Don Cesare Lanzio. Allora per aver fatto assassinare un magistrato di Termini Merese, ora per essere l'autore del duplice omicidio della figlia e del genero. Per la seconda volta il giovane provvedimento barone di Trabbia si salva e la fa fanca. Viene con questo provvedimento confermato che cosa? La regola della intoccabilità dei nobili, dei baroni, insomma dei potenti di Sicilia che facevano e disfacevano quello che volevano nei loro feudi, ivi compresa l'amministrazione della giustizia con facoltà di far torturare o impiccare la povera gente che si macchiava molto spesso per fame di piccoli reati, furto di qualche animale domestico, di legna, farina, eccetera eccetera. Ma loro, i baroni, si potevano invece tramutare in feroci assassini, uccidere persino familiari stretti perché avevano sicuramente la certezza della cosiddetta impunità. Nel 2010 uno studioso di valore ormai scomparso, il professore, il palermitano professore Alberto Barbaro, già docente, era un filologo appunto, docente di filologia e romanza all'università, scrisse un denso saggio edito da Il Mulino proprio dedicato alla baronessa di Carini. A suo dire, ma non solo, dopo accurate ricerche, il delitto, ma già questo l'aveva anticipato, il delitto fu premeditato e forse il momento più che la difesa dell'onore è da ricercare in qualche cosa di più importante per Don Cesare Lanza. Barbaro analizza in profondità il rigore e i fatti e documenta e sottolinea che la tesi del delitto commesso in un momento di ira per avere sorpreso gli amanti in flagrante non corrisponde al vero. I due erano amanti, lo dicevo all'inizio, da un pezzo ed è chiaro che a Carini e a Palermo lo sapevano tutti. Inoltre la leggenda, fatta propria da Salamone Marino, narra che c'era inimicizia e odio inconciliabile tra Don Cesare Lanza e il giovane Bernegarlo, per ragioni di interesse non soltanto personali, ma anche politiche e regionali. Malgrado ciò il resto oscuro, il movente vero del duplice omicidio. Il filologo Barbaro, con questa pubblicazione del 2010, partendo da una domanda che gli stessi suppone, è che se tutti sapevano dell'adulterio, che andava avanti pacificamente da anni, perché mai Don Cesare aveva deciso proprio allora, nel 1563, di intervenire brutalmente? Pare, vi afferma, assumendosi in tutte le responsabilità del professor Barbaro, che nella famiglia Lanza si raccontasse che proprio Costue, Don Cesare, doveva del denaro al Bernagallo e che, come altre volte è accaduto e accade in Sicilia, l'omicidio fosse il modo prescelto per estinguere il debito. La baronessa Laura, sempre secondo Barbaro, vi sarebbe rimasta coinvolta perché l'occultamento della vera ragione fosse completo, per rendere tutto più credibile. insomma, Don Cesare ammazza il genero e la figlia per questioni di interesse, di danaro, era un debitore e si parla, qualcuno lo dovrà pure dimostrare un giorno, si parla perché se si scandagliano gli archivi si troverà. Si sapeva che era in bocca a tutti questa vicenda, perché Don Cesare fosse debitore verso l'innamorato della figlia. Ma poi quando questo debito divenne veramente insostenibile nel rimbortarlo, allora Don Cesare alza l'ingegno e trova la soluzione che è più congeniale al suo modo di essere di uomo violento. Ex assassino di un magistrato, personaggio che con violenza gestiva i suoi domini, capisce che la soluzione è nell'omicidio. Insomma, Don Cesare lanza con una fava, prende due piccioni, salva l'onore, ma l'onore lo dovevano salvare in due. Ecco perché non si capisce che nella seconda narrazione che ne fa il Salvatore Marino quasi quasi il genere non esiste. No, non è che non esiste. La vulgata popolare è Don Cesare che lava l'onore successivo, è Don Cesare che lava l'onore della famiglia, ma in questo caso l'onore lo doveva salvare il genero che era il marito e con le leggi di allora esercitava la potestà della moglie. Don Cesare non aveva più nessuna potestà sulla figlia e quindi comunque sia Don Cesare dicevo con una fava piglia due piccioni e quindi che cosa fa? Salva l'onore e si libera di un creditore come il giovane Vernagallo che potrebbe rendergli la vita piena di difficoltà. Il movente appare, secondo lo studio di Alberto Varvaro, appare credibile ma è venuto fuori oltre 450 anni dopo il fatto. C'è materiale dunque per riscrivere, a mio giudizio anche con l'utilizzo dei poeti, la storia definitiva della baronessa di Carini. Proprio ora che la memoria delle vittime, delle due vittime, due giovani travolti dalla passione amorosa fino a pagarla con la morte, sembra destinata a perdersi come tutte le cose, questa memoria labile, questa conoscenza del passato che diventa sempre più fragile. La Sicilia con la storia della baronessa di Carini ha la sua storia d'amore, quella di Laura e di Ludovico che ci permettono di ricordare e di rimandare ad altri tragici amori di altre indimenticate coppie, ne cito alcune, il tragico caso di Abelardo ed Aloisa, parlo dell'altro caso Paolo e Francesca, ricordati entrambi da tanta leghiera nella Divina Commedia, Giulietta e Romeo, di cui Shakespeare non ha risparmiato nulla nel raccontare questa drammatica storia d'amore, dunque anche noi siciliani abbiamo questa bellissima storia d'amore. Mi chiedo perché allora si fa poco anche in questo frangente per ricordare adeguatamente ai contemporanei e ai posteri la vera storia della baronessa di Carini? Senza fronzoli e soprattutto senza falsità e senza l'altalenante tradizione orale. La conoscenza del nostro passato, se mi è consentito, è fondamentale per comprendere il presente e dunque è necessario che questa vicenda dolorosa, straordinariamente bella dal punto di vista letterario ma anche umano, dal punto di vista umano, una bella storia d'amore ha diritto di essere ricordata e di essere ricordata nei minimi particolari con la maggiore verità storica e allora attendiamo risposta, attendiamo risposta dai chi, studiosi e non, oggi si devono fare carico, si dovrebbero fare carico di fare piena luce sul caso della baronessa di Carini che dopo quasi, ormai siamo a quasi 500 anni dei fatti, bisognerebbe con l'aiuto dei media, con l'aiuto dei registi di valore, con l'aiuto di poeti e di scrittori e di storici riscrivere questa storia alla luce di queste novità e far diventare veramente la storia, il caso della baronessa di Carini, una storia siciliana che ancora oggi ha tutti i titoli per essere ricordata e per appassionare.